Ad intervenire su Europe Car, l'assessore regionale al turismo Silvia Godelli, la quale, dopo aver preso visione del contratto di autonoleggio che la società stipula con i turisti, con grande sconcerto ha trovato la Puglia, seccamente indicata tra i territori Canaglia, ad alto rischio di furti d'auto. In sovrappiù si legge nel contratto che nei territori Canaglia, che però non trovano ovviamente tale citazione letterale nel contratto, ai clienti Europe Car verrebbero applicate condizioni contrattuali speciali, particolarmente penalizzanti. Mi permetto di protestare, ha scritto la Godelli nella missiva inviata al direttore della società Fabrizio Ruggero, e non se ne stupisca. La Puglia è una regione a forte vocazione turistica, molto amata dagli stranieri, e celebre per la sua vocazione all'accoglienza. Il modo in cui viene presentata nei contratti Europe Car è chiaramente inteso a scoraggiare i potenziali visitatori dal recarvisi, ed è anche offensivo. Comprende, prosegue la Godelli, le esigenze di politica aziendale della società da lei diretta, ma stigmatizzare in modo così plateale e inappellabile la nostra terra mi appare ingiustificato e ingiustificabile. Nella certezza che vorrà accogliere le ragioni di questa mia lettera e porre il riparo a quanto da me lamentato, conclude l'assessore regionale al turismo, la invito a trascorrere una bella vacanza da noi, per rilassarsi, per emozionarsi e per cogliere meglio la qualità del nostro territorio e delle sue popolazioni. Non se ne pentirà.